Quale esercizio può aiutarci ad accettare la nostra posizione nel mondo materiale? Quale esercizio può aiutarci ad accettare la nostra posizione nel mondo materiale? Quale esercizio può aiutarci ad accettare la nostra posizione nel mondo materiale? Il mondo materiale o spirituale? Il mondo materiale o spirituale? E tu sei un devoto ma vivi nel mondo materiale? Come è un devoto? In pratica semplice di fare? E tu sei un devoto ma vivi nel mondo materiale? Quale è la pratica per tollerare o per vivere? È un argomento. È un argomento? Maraj dice prima devo realizzare, prima di rispondere. Quindi domani darò la risposta. Mi ricordate di Radika, quindi io andrò in. Quindi mi ricordate di Radarani, poi mi fate altre domande. Devo uscire da questo sentimento di Radarani per parlare di altri argomenti. Un'altra domanda. Come tutti i Goswami, no? I Goswami erano mangiari, però facevano servizio ai musulmani, governatori, tante cose. Come hanno fatto tutto quel tempo a sopportare? Come i Goswami erano mangiari, ma esternamente fanno servizio ai muslimi, al governo sociale. Come hanno fatto a tollerare? Come hanno fatto a tollerare? Prima facevano servizio. Prima facevano servizio. Poi dopo si sono stabiliti. Prima facevano servizio. In the beginning they do. Prima l'hanno fatto. Prima l'hanno fatto. Prima l'hanno fatto. Prima l'hanno fatto che questa è tutta la miseria del Brandava, tutta la miseria del Savani. Radiga. Mi sembra di aver capito che erano Nitya Siddha, cioè realizzati sempre, eternamente, però in qualche maniera si sono comportati come se accettassero la Kripa Siddha, cioè la misericordia, e allora è come se si fossero evoluti. E quando loro lavoravano con il governo, con il re, erano molto bilanciati, molto... E quando hanno avuto l'occasione di cambiare, così, e sono cambiati. E sono andati. Quindi, anche per i devoti, come bilanciare? Quando noi interiormente siamo stabili, quindi il resto dei sentimenti, dei comportamenti non è difficile. Come se la vostra casa è pacifica, e ci sono buone comprensioni, c'è una buona comprensione, e avete, insomma, degli altri affari fuori, dei lavori fuori. E' molto facile averci a che fare, molto semplicemente. Ma il conflitto interiore ti rende più problemi. Invece, se in voi ci sono conflitti, aumentano i problemi. Quindi il conflitto interiore è in casa mia. Invece, quando nell'interiore non c'è conflitto, tutto è bilanciato. Un appare un bigliano colore, un eldo, un pallatino, un pallatino polino. 20 pallati, un collatino che li prendono. E questo è un pallatino. Quindi che devi fare? e c'è uno, una, non lo so, no, bastoni, li metto insieme, ok, ah ho capito, quindi ha un tipo di oggetto che ha fatto con 20 bastoni di bambù legati insieme e ti dicono rompilo, però non posso romperlo perché ho conflitti interiori, però se non c'ho conflitti e tu riconosci bene e sei pacifico mi dici ok, lo faccio, e allora non è che non tieni tutti i 10 bastoni legati insieme, ne prendi uno per volta e li rompi, giusto o sbagliato? e risolvi tutti i problemi, ma noi vogliamo rompere tutti i bastoni in una volta sola, perché non riusciamo a escogitare, a capire bene cosa fare a causa del conflitto interiore si capisce? come è necessario agire in questa epoca aggressiva e violenta dove vige la legge del più forte? Tanta misericordia e compassione a volte penso che non basta allora, una frase per volta dice come è necessario agire in questa epoca aggressiva e violenta come è necessario agire in questa epoca aggressiva e violenta? La misericordia e la compassione, a volte penso che non basta. Allora, l'unico che fa la domanda, credo che la misericordia e la compassione a volte non è sufficiente. Quindi cos'è abbastanza? Qual è la tua esperienza? Puoi dirlo? Se la misericordia non è abbastanza, cos'è che ci vuole? Cosa bisogna aggiungere? Se tu ci fai mente locale, la violenza è dentro di te. Non devi andare in giro per trovare la violenza. Perché non esci dalla violenza interiore? E allora in quel modo comincerai a sentire la misericordia, che la mia violenza è andata. E come succede questo? Solo a causa della misericordia. Giusto sbagliare? Ma devi andare in giro per trovare la misericordia. Però devi mantenere la misericordia. Però devi mantenere il bicchiere in quella posizione. e noi in quella posizione. Ho capito. Solo se metti il bicchiere in posizione di riscettiva, la misericordia arriva. Perché in questo modo questo vaso, questo bicchiere è pronto per ricevere. E questo vaso non è pronto per ricevere. Invece messo in questo modo non è pronto per ricevere. Quindi come ho messo il mio bicchiere? Se il mio bicchiere è voltato in questo modo, il Gurudeva ti dice, canta e volta il bicchiere. Questo puoi capire. Il tuo conflitto interno solo con la misericordia può andare fuori. E uno deve capire che i conflitti interiori se ne vanno solo per misericordia. Chiaro? Chiaro? Non c'è un po' senza un po' Ah, questo è molto molto importante. E se hai un po' e se hai un po' nel bicchiere cosa succede? La misericordia arriva e si va a riposare. Non lo mantieni. E praticamente non la mantieni, non ti rimane. Quindi qual'è il buco che voi dovete sorvegliare che non vi succeda? È un po' vecchio o un po' nuo. E se sei un po' vecchio, vecchio significa non un po' vecchio, ma un po' mentale. E quindi vecchio è un vecchio bicchiere o un nuovo bicchiere? Vecchio significa non come corpo ma come mente. Allora gli devi fare un trattamento in modo che il buco si tappi. Lo trattati cosa significa? Cosa significa il trattamento? Cosa significa l'associazione? Cosa significa l'associazione? Come fermarlo? Gurudev, abbiamo bisogno di te più tempo, puoi stare sei mesi per anno con noi. Gurudev, we need you for more time, can you stay six months, not only six days. Questo è il problema. Vedete, quando vengo, non so cosa succede, perché sento che il posto, e dice, quello che viene in mente a Maharaj, che mi sembra che quello che mi ospita poi deve tribolare, perché arriva un sacco di gente a vedermi. Questo è il problema. E quindi me ne voglio andare veloce, e mi dicono, mi dicono, ma non sei stanco di viaggiare? No, no, non sono stanco, vado, vado. Onestamente, non mi piace andare via. E quindi quando sono Mappuru, Shambrita, Sanatani, Ramananda, che devono fare tutti questi... Dice, io mi sorprendo che arriva un sacco di gente. Quanti sono arrivati? In terni? In terni, quanta gente arriverà? Sanatani? One hundred. One hundred every day. Un cento ogni giorno. Un soggetto è solo uno, non so molto da dire. Dice, io parlo di un argomento solo, non c'ho tante cose da dire. That morning will be different subject evening, is a one subject. Dice, ci sono quelli che, insomma, parlano la mattina un argomento, la sera un'altra. Io dico sempre quello. One goal, one goal program, I say. Dice, il mio programma ha un solo scopo. Il programma con un solo scopo. To develop a relation. Sviluppare la relazione. And I not say my word. Prabhupada, the word I'm telling to you. E non vi dico le cose, e non vi dico le parole mie. Ma è Prabhupada che vi sta parlando. Se voi lo vedete, la Bhagavad Gita, pagina quattro, e lui parla della Svarupa e della Svarupa Siddhi. 30 anni, they are devotee, never they look there, but slowly, slowly, I say, what? Salud, Prabhupada. Siddhi, perfection. This is the goal of our life. But he will say more, my dear. Maragio, Maragio, per trent'anni. Ah, Maragio dice, per trent'anni non avevo visto, ho letto, ma non avevo, me era accorto che Prabhupada parlava di quello. But he will say more. Cosa poteva dire di più? All the subject in one page. All the life is right in one page number four. Ci sono tutti gli argomenti in una sola pagina. Tutta la vita di Prabhupada è nella pagina quattro della Bhagavad Gita. Se volete avvicinarvi a Prabhupada, leggete quella pagina quattro e cercate di capirla. Non è misericordia quella. Non è misericordia quella. Può succedere qualcosa senza misericordia? Finirà la violenza? Solamente per grazia. Quando arriverà quella grazia, quello è il momento. Quando Maragio ha preso iniziazione, ha cominciato a cantare 64 G. E diceva al suo maestro spirituale, Gurudeva, non mi sta succedendo niente. E il Gurudeva gli ha detto, aspetta e guarda. Perché quando succederà, non saranno in ecstasi. Non si può controllare. Devi essere qualificato per ricevere. devi vuotare il tuo bicchiere e te ne accorgerai perché allora andrai in ecstasi. E io l'ho sentito, lo sento. Vedete che l'acqua viene dal monte, dalle montagne. Vedete quanta forza e potenza c'ha? E la misericordia scorre in quel modo. Quindi cantare è molto importante. Non va bene il Namabhasa. Con amore. Nell'amore. Dice, l'unica speranza quando sono in separazione con te, l'unica speranza è il nome. Il nome. Quel nome. Di quel nome abbiamo bisogno. Dice, tante volte si canta, si canta. E' una sofferenza. Non c'è proprio, non si è proprio... Non c'è proprio... Ha detto, vieni, dite, dite, dite. Rabuji è dicendo che molti volte cantiamo e cantiamo, ma è solo una sofferenza. No, questo canto non è mai una sofferenza. Questo canto non è mai una sofferenza. Ma il Namabhasa sta succedendo. Però succede... E' che sta succedendo il Namabhasa. Sì, sai, just now, Niskinciana Maharaja e Sridhar Maharaja parlano di questo obiettivo, no? Sono appena passati di Niskinciana Maharaja e Sridhar Maharaja che hanno parlato di questo argomento. Ma noi abbiamo bisogno. Connexione. Ma a noi serve la connessione. Abbiamo bisogno della connessione. In questo materiale, se sei in amico con qualcuno, e il tuo nome ti cura, il tuo nome è la forma di cura. Il tuo nome è la forma di cura. Il tuo nome è la forma di cura. Se ami qualcuno, è il nome che ti dà sollievo. La relazione viene da questo nome. Giusto o sbagliato? Questo è il punto. Realizzazione. Realizzazione. E questa realizzazione diventa un altro. E quindi questa realizzazione deve essere il nostro pensiero. Sì, madre. Ti accade con me? Sei d'accordo? Perché di tua aiutazione, cose stanno arrivando. Dicci anche. Perché di te aiutare, cose stanno arrivando. Siccome mi stai aiutando, le cose stanno succedendo. Grazie per questo. Grazie.